ciao ciao allora siamo qui perché mi hanno dimenticato no perché per darvi un appuntamento molto importante anzi due appuntamenti molto importanti ah è vero esatto ma il secondo non lo sapevo se siamo preparate abbraccio facciamo abbraccio più tardi più in là aggiorneremo tanto manca il primo mese allora il primo appuntamento sarà domenica 13 ottobre al lobby show di roma ore 11 saremo io elisabetta loretana miardi delle persone praticamente c'è tutto l'hobby show viene con noi esatto e alle ore 11 dopo aver pagato prima pagate davanti al capannone quindi proprio l'entrata del capannone che ospita lobby show ci vediamo proprio lì lì davanti e facci nostre conoscete su queste quindi non vi potete sbagliare al limite fate una fotografia e ci riconosciamo sì esatto esatto il secondo alle ore 11 ci vediamo lì domenica 13 ottobre mi raccomando mi raccomando puntuali perché voglio dire c'è una cosa se vi va magari lasciate un commento sotto al canale suo sotto al canale mio magari ci avvisate chi viene così ma poi magari facciamo una sorta d'appello di riscontro così almeno non ci perdiamo le persone esatto appunto secondo appuntamento lo dici tu allora è lo più difficile allora il nove novembre udite udite amiche di napoli saremo alla creativa di napoli abbiamo già comprato i biglietti c'ho i propri stai spollendo il pappagallo e non ci fate canzi infatti sempre in momenti di opportunità e l'orario non lo sappiamo precisamente perché ci abbiamo il treno mi pare alle 9 e 58 ah ecco questo lo sapete comunque quindi sabato 9 novembre 9 novembre sì e così lo so pure lì almeno oltre voi lo so pure lì perché non lo so a lei mi piacciono un sacco e sfogliadelle io va a buttare l'acqua vabbè però mi piacciono cioè se mi volete portare butta all'incaciana e i magno subito così mi vanno a male però noi arriviamo direttamente da Roma non è che c'abbiamo il tempo di dire a Napoli quindi insomma noi avevo detto che vi piacciono però se volete portare non è che i recitiamo non lo dico sì c'è perché ho mai vergogno di dire cose effettivamente no quindi portate sfogliadelle non scherzo portate voi stessi ecco lì saremo veramente tantissimi missi 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 io ho contato almeno 40 persone quindi amici napoletani lì davvero tutta creativa Napoli sarà per noi e quindi niente quindi adesso vi salutiamo vi salutiamo divertitevi forza Roma per domani sera perché lo carichi prima di domani o lo carichi io? anche ne so stasera vabbè forza Roma sempre e alla prossima e ci vediamo all'obbiscio ciao ciao oh mi raccomando venite ciao ciao